La zona delle scapole, la zona delle spalle sono aree che per molte persone sono estremamente rigide e contratte proprio perché le sentono estremamente rigide e contratte tentano di rilassarle molto spesso con massaggi, automassaggi, varie forme di tortura medievale magari hanno qualche risultato temporale ma molto spesso questo tipo di rigidità contrattura ritorna in questo video vedremo perché questa zona è così ostica e vedremo una tecnica efficace per rilassarla uno dei motivi per cui questa zona è così ostica, così resistente è che la tensione che si forma nell'area dorsale, nell'area delle spalle non viene direttamente da quei muscoli ma è più figlia di muscoli anteriori il pettorale, il diaframma, a volte addirittura i muscoli della parte bassa, l'opsos questi muscoli tendono a chiuderci e sono facili, è facile che noi tendiamo a chiuderci per un accumulare di tensioni varie ovviamente più tendiamo a chiuderci e più c'è bisogno che la parte posteriore lavori per tenerci su perché poi alla fine dobbiamo stare su ed ecco che si va a sovraccaricare quindi questo è il primo motivo per cui agire e torturare direttamente la zona molto spesso non è proficuo un altro motivo è che l'irrigidimento della zona dorsale, visto che la zona dorsale è un po' una chiave di volta della nostra postura è frutto dell'irrigidimento un po' generale qua ho trovato queste immagini di questa ragazza che oramai gira da decenni però insomma serve per capire bene quando ho una postura tutto sommato non troppo contratta a me piace chiamarla contratta, non sbagliata è ovvio che la tensione che si viene a formare sulla chiave di volta è minore rispetto a quando siamo tutti accorciati come sta mimando in questa posizione, quindi altro motivo è che se non molla un po' la tensione in generale perché dovrebbe mollare il punto in cui si sfoga maggiormente, dobbiamo mollare la tensione in generale e altro motivo sempre legato un po' a queste cose che ci succedono nell'arco della vita è che non c'è solo l'irrigidimento ma c'è anche l'indebolimento abbiamo visto che i nostri muscoli devono combattere questi irrigidimenti devono avere forza per combattere questi irrigidimenti ed è molto facile che ovviamente a lungo andare i nostri muscoli si indeboliscano per vari motivi quindi semplicemente il trapezio medio in particolar modo, i muscoli della scapola non ce la facciano a contrastare tutte quelle forze si vadano ad indebolire, facciano sempre più fatica e manifestino questa fatica come irrigidimento ed è un altro motivo che ovviamente sulla quale massaggi e cose varie non ci possono fare nulla perché non possono rinforzare i muscoli allora qual è la tecnica che ci serve per rilassare la zona? ovviamente per correre al contrario quei punti che abbiamo appena visto ma la premessa da fare è che non dobbiamo cercare un rilascio immediato della zona perché spesso non è possibile dobbiamo puntare ad un rilascio nell'arco di una settimana, due settimane, quattro settimane meglio quindi prima la cosa da fare è sicuramente andare a rinforzare la muscolatura delle spalle la muscolatura del trapezio medio e adesso vediamo come possiamo fare poi vogliamo ridurre la tensione di tutti i muscoli in generale e in particolar modo vogliamo concentrarci sui muscoli di chiusura anteriore facendo queste cose nel medio e lungo termine andiamo a scardinare questi meccanismi e quindi andiamo a sentire la zona meno contratta vediamo alcuni esempi di esercizi i due rinforzi del trapezio medio che mi piacciono maggiormente per questo scopo sono uno, un esercizio di mobilità attiva ovvero raddrizzo le spalle ovviamente dobbiamo lavorare sulla postura in generale porto le braccia in posizione a croce con i pollici rivolti all'indietro e le porto indietro fino a quando non incontro una resistenza che è la resistenza guarda caso dei muscoli anteriori quando incontro la resistenza tengo per una decina di secondi rilasso è una buona tempistica almeno una decina, quindicina di volte da una decina di secondi secondo esercizio di rinforzo lo posso fare con un elastico simulando ad avere un elastico con un bastone afferrandolo alla larghezza delle spalle portando su le braccia fino a dove riesco ad arrivare senza inarcare la colonna e quando giungo in questa posizione aprire l'elastico o simulare di aprire l'elastico se non ce l'ho se sto utilizzando un bastone in questo modo la doppia componente mobilità della spalla e allungamento perché sto portando in alto le braccia ma anche contrazione attiva perché sto cercando di ovviamente di tirare e di allargare tempistica simile a quella di prima come allungamento generale un po' di tutta la colonna vediamo questo classico esercizio di triplice allungamento mettendoci a pancia in su però attenzione il vero allungamento generale è il piano di allenamento generale ho creato delle schede proprio appositamente sul miglioramento posturale si chiamano migliora la postura con fitness sicuro e lì c'è proprio tutta la mia metodica tutto quello che puoi fare per aiutare la tua postura vai a guardare i link che sono nella descrizione del video che trovi ovviamente tutte le informazioni per le mie schede di allenamento posturale quindi questo esercizio che cosa voglio fare? è fondamentalmente creare una tensione leggera su tutta la colonna piego le gambe e inizio dalla colonna lombare blocco la colonna lombare schiacciandola contro il materassino senza irrigidire spalle e collo se ho bisogno di un supporto lo metto inspiro e quando espiro tenendo la bocca aperta faccio questa sorta di doppio mento mi allungo in questo modo ora che cosa succede? che quando schiaccio la colonna mi verrà da inarcare così e quando allungo facendo il doppio mento mi verrà da inarcare la colonna ecco io schiaccio la colonna lombare e allungo fino a quando non mi sta venendo da inarcare la parte della bassa schiena lì vuol dire che ho creato una tensione sulla colonna una decina quindicina di ripetizioni è un buono standard per l'esercizio e sulla riduzione della tensione nella muscolatura anteriore non c'è nulla di particolare da inventarsi porto in allungamento lo psoas in questo modo classico modo ginocchio appoggiato su qualcosa di morbido schiena diritta porto in allungamento il pettorale piccolo pettorale portando il braccio indietro e utilizzo il diaframma facendo massima ispirazione e massima ispirazione 3-4 respiri belli profondi da una parte 3-4 respiri belli profondi dall'altra per un 3-4 cicli per lato ed ecco qua questo è un piano completo che tocca tutti i punti che abbiamo visto precedentemente cerca di smontare tutti i punti che abbiamo visto precedentemente ricordo non dobbiamo puntare ad un rilassamento immediato perché è difficile dobbiamo puntare ad un miglioramento posturale e conseguentemente un rilassamento nel tempo abbiamo visto degli esempi ricordo ancora che se vuoi vedere tutto il mio programma di allenamento posturale trovi le mie schede nei link che sono nella descrizione del video e per questo video abbiamo concluso grazie mille dell'attenzione non dimenticare però se ti è sembrato interessante di lasciare un mi piace e di iscriverti ai miei canali ci vediamo alla prossima ciao 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 Grazie a tutti.